Noi siamo interessati alle cose vere che importano alla gente. Letta e Alfano devono spiegare agli italiani non solo l'inaccettabile ritorno sotto falso nome della tassa sulla prima casa, ma devono anche spiegare che è cambiato tutto. Non c'è più un governo di larghe intese con noi, ma c'è un governo di centro-sinistra, anzi di sinistra-centro, con Alfano che fa da ruota di scorta alla sinistra.